bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per tutto quello che riguarda le scorse 24 ore di fortnite oramai dobbiamo farci l'abitudine avere ancora un pochettino di pazienza siamo tutti in attesa dell'evento di questa stagione 2 ha perso un po di hype dai diciamoci la verità però sono sicuro che ritornerà fra pochi giorni quando insomma vedremo finalmente che cosa accadrà e ci porteremo direttamente dopo 48 ore alla stagione numero 3 oggi vediamo tante cose ma prima volevo ringraziare innanzitutto tutti i ragazzi che mi stanno iscrivendo al secondo canale ragazzi xyuder best moment e soprattutto tutti i ragazzi che mi supportano nello shop con il mio codice xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente in quelle che sono le notizie di oggi partendo ancora da un'immagine che abbiamo già visto e che conosciamo benissimo l'unica immagine ufficiale che caratterizza la stagione 3 da adesso ragazzi tutto quello che vedete riguardante la season 3 è fake foto di pass battaglia immagini delle location outfit tutto quello che mi pare non è assolutamente niente di vero l'unica cosa ufficiale è questa la conosciamo l'abbiamo imparata a memoria e addirittura si è parlato che l'unico dettaglio in questa immagine ovvero sia quelle tre palme potevano essere una possibile collaborazione nella stagione numero 3 di fortnite con spongebob perché perché nell'intro del video di spongebob di ogni suo episodio dei cartoni animati si vede proprio quell'isoletta in realtà ragazzi ci sono state delle notizie importanti e delle modifiche quelle tre palme non sono altro che queste tre palme ragazzi dove siamo siamo praticamente nell'isola immaginate che sotto di me qua spostandovi nella parte della dello schermo c'è lo squalo ok questa quindi è una delle il continuo dell'isola da dove si esce con la cabina telefonica e il fatto che abbiamo capito qual è l'isola è molto importante però è anche molto strano perché noi vediamo una distesa d'acqua praticamente che lascia fuori solamente le tre palme il problema è che quest'isola a come vedete nella parte destra un una collina no un rialzamento quindi è un po strano che sia questa potrebbe semplicemente essere una coincidenza anche perché non avrebbe senso che il livello dell'acqua fermandosi alla base delle palme non cioè ricopra anche la collina quindi o verrà modificata o semplicemente hanno preso queste tre palme le hanno messe lì ma l'isola non è questa quindi una curiosità che ci stava da sapere ovviamente incrociamo le dita e staremo a vedere che cavolo succederà e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi mi tocca mi tocca mi tocca particolarmente l'ha fatto l'ha fatto erano anni che non lo faceva invece l'ha fatto signori il mostarda mi cambia l'immagine del profilo io non cioè sta bene è così nel senso già mi ha messo lo smoking tattico da agente segreto season 2 barra potenziale season 3 il capello ribelle tipo dito nella presa elettrica e lo sguardo in fingardo che effettivamente sa di sapere ma non vuole dire il signor mostarda come vi ho appena fatto vedere aveva anche già cambiato ragazzi la sua immagine della testata della pagina ufficiale dove c'è appunto una distesa d'acqua fino all'orizzonte e una spiaggia sappiamo sempre che quando lui fa queste modifiche sulla sua location sulla sua testata di copertina e ai quant'altro appunto è riguardante sempre happy games non so bene perché abbia deciso di cambiarla comunque meraviglioso come sempre il donato uno di noi ragazzi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità per quanto riguarda i test sulle prossime patch allora cosa sta succedendo sappiamo che hanno provato per più di 400 volte la patch 13.00 13 sta per il numero della stagione in cui si arriverà per noi una season 3 per il gioco è la stagione 13 10 season del capitolo 1 più 3 del capitolo 2 come vedete ragazzi hanno già terminato se andate a vedere la penultima riga di questa immagine tutti i test sulla patch 13.10 quindi loro sono già pronti secondo quanto vediamo nei file di gioco e sono iniziate addirittura le i test server per la pace 13.20 che ipoteticamente potrebbe essere il primo grande update della prossima season non sappiamo ovviamente nulla come già vi anticipavo di quello che sarà la season non sappiamo la storia nel trailer il pass battaglia nulla però loro sono già avanti alla grande quindi ci auguriamo che poi una volta iniziata si cerchi di procedere al meglio senza intoppi anche perché wow è stata veramente dura inghiottire diciamo questa tripla posticipazione di season ma dai oramai oramai ci siamo e andiamo avanti a parlare di un altro argomento ragazzi per chi non lo sapesse l'altro ieri dovevano esserci giovedì dovevano esserci le ninjas battle no la collaborazione di ninja con fortnite sono un totale di 6 eventi se non ricordo male o 5 con un monte premi complessivo di mezzo milione di dollari si parla ovviamente di giocatori su invito e pro player mondiali ma per chi avesse cercato appunto la seconda puntata di giovedì che non c'è stata è ovviamente stata posticipata a giovedì prossimo per gli eventi chiaramente che stanno accadendo negli usa quindi non vi preoccupate andranno avanti si ricomincerà da giovedì prossimo troverete ovviamente ninja in live su mixer come al solito in diretta a fare il suo evento e arriviamo all'ultimo argomento di oggi perché parlando di pro player non potevo che non dirvi di quello che sta succedendo con il tossicone di tfue ragazzi tossicone di tfue perché ogni volta che lui lo vedi dentro in game è molto molto tossico perché si c'è questa immagine perché praticamente tfue insieme a scoped e inno che sono i suoi due teammate stanno facendo delle partite a livello ovviamente super competitive in arena trio per quanto riguarda appunto la preparazione a ciò che potrebbe essere tornei più fighi no in trio nella stagione 3 se ne parla davvero tanto addirittura hanno parlato di world cup in trio ma non possiamo ancora sapere nulla di ufficiale il problema è che allora in scoped e tfue hanno deciso di droppare sempre alla grotta ok perché la grotta hanno stabilito essere il punto di fortnite con il loot migliore in assoluto al 100% delle volte tonnellate di chest un miliardo di scatole di munizioni quella che si dice essere l'arma più forte del gioco ovviamente la minigun mitica che effettivamente magari giocata in solo è un po così ma quando inizi a giocare con un compagno di squadra beh se la sai giocare bene c'è veramente poco da fare per gli avversari il problema è che durante le partite in trio continuavano a seccare violentemente il team di zekro macwood e calc zekro sarebbe zeit in questo momento che twitta se tu sei una merda di pro player e droppi per andare a prendere l'arma mitica più forte è l'unica chance che hai per fare un buon game insieme agli sfigati dei tuoi compagni di squadra twitta ovviamente lui dopo aver subito parecchie volte tfue il tossico gli risponde e dice contestateci oppure state zitti quella parola lì che non voglio dire per evitare la demonetizzazione quindi ragazzi come al solito si fa riconoscere il nostro tfue se qualcuno vorrà provare nei server americani e beccherà la sua partita beh allora provate ad entrare a droppare nella grotta perché saranno sempre lì ad aspettarvi e molto probabilmente ad aprirvi prepotentemente insomma ragazzi anche per oggi io le news le ho terminate vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video e vi ringrazio tantissimo perché io mando 30 secondi di schermo nero alla fine di questo video visto che manca veramente pochissimo e non mi sembra il caso tagliarlo qua noi ci vediamo ovviamente adesso in live su twitch ciao e lo schermo nero e io lo uso per portare il video a 10 10 minuti ma chi ce n'è e chi se frega la 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 la